buonasera a tutti questa sera le pagelle sono molto importanti perché le colpe maggiori ricadono su alcuni errori individuali gravissimi o giocatori non pervenuti e quindi sono molto più importanti le altre volte questa sera il gioco c'è stato la voglia c'è stata l'impegno c'è stato allegri ha spinto ha commesso orrori perché lui continua e si ostina ma ne parliamo fra poco a mettere in campo mckenny che per me è un giocatore veramente comico per non dire un altro termine ma comunque ne parliamo dopo ma questa sera e partiamo con i voti se anziché al posto di cesni ci fosse stato anche il gigi buffon oltre quarentenne che gioca nel parma o il pinsoglio che di fatto è un come si può dire è un mascotte la juve forse avrebbe vinto questa sera avrebbe vinto perché cesni primo gol è un regalo suo il secondo una dormita in concomitanza con danilo più danilo che lui ma lui purtroppo si butta tre quarti dopo non è più lo scesni che ti salva le partite lo scesni che te le fa perdere poi è vero ha fatto una bellissima parata ma va bene era un tiro da 30 metri ci può anche stare che un portiere pari un tiro da 30 metri a mezza altezza cioè non è che stiamo parlando di uno che dorme anche se purtroppo sta dormendo io sono sei mesi che dico che per me il titolare di questa juventus dovrebbe essere mattia perin perché lo vedo esplosivo lo vedo reattivo lo vedo pronto lo vedo insomma lo vedo migliore di questo cesni cesni è un ottimo portiere ma in questo momento non è il cesni che abbiamo visto in anni passati io questa sera non posso dare più di due al polacco mi spiace danilo se non si fosse fatto perdonare con il gol probabilmente avrebbe preso un voto pessimo perché anche lui è stato colpevole ma gravemente colpevole sul secondo gol anche perché tu non puoi entrare in campo pronti via e regalare e regalare la palla a un avversario così in maniera inopinato quando tu sei scoperto non sei pronto quindi poi ti attaccano in tre e ti fanno il gol e quindi diciamo che avrebbe preso un brutto voto però poi c'è da dire che danilo è uno che sa reagire uno che lotta è uno che ha fatto anche delle belle giocate poi ha fatto anche il gol sul tocco di punizione che gli è stato dato da di maria e quindi di maria il danilo che avrebbe preso quattro diventa automaticamente un 6 strameritato più di 6 ovviamente non gli posso dare perché l'errore che ha fatto era gravissimo bremer meno male che questa sera abbiamo rivisto il grande bremer che noi sappiamo di aver comprato perché il bremer visto a napoli era veramente inguardabile spero che fosse stato spero sia stata scusate una serata storta quella perché questa sera bremer non ha fatto respirare nessuno dei giocatori dell'atalante che gli si parlava davanti gli ha anticipati tutti uno per uno non ha sbagliato nulla grande partita di bremer avesse giocato così anche quell'altro di fianco di cui parlerò tra poco probabilmente avremmo vinto quindi tanti errori individuali bremer 7 sandro ecco sandro finito il mondiale perché a lui gli interessava andare al mondiale è rientrato in modalità coglione in modalità mojito lui ha rincominciato a giocare al solito modo passa la palla a quello più vicino a lui oppure passa la palla all'indietro non propone più non ha fatto neanche un cross quando cioè veramente ha fatto un errore gravissimo sul terzo gol perché se lo dimentica se dimentica di il colpo di testa del 3 a 2 dell'atalanta se c'è uno che ti marca tu non arrivi a colpire pulito magari riesce a colpire però contrastando magari sbagli il colpo l'ha lasciato colpire se l'ha dimenticato quindi 4 sandro mi dispiace rabbio non vorrei che fosse lo stesso problema siccome lui ha visto che la juventus è stata penalizzata siccome uno che guarda molto queste cose ha mangiato la foglia è rientrato in modalità schifo assoluto non ha combinato niente questa sera non mi sono accorto che rabbio era in campo veramente uno dei più brutti rabbio della stagione lo perdono perché chiaramente viene da 6 o 7 partite dove ha giocato bene è stato uno dei migliori però sinceramente questa sera più di 4 non gli posso dare locatelli locatelli per me è veramente un dispiacere dover dire quello che sto per dire però locatelli come ho detto anche in live reaction non vorrei che fosse sponsor veramente delle mozzarelle locatelli o degli stracchini locatelli perché non è possibile che tutte le volte che arriva il tiro fa dei tiri telefonati che parerebbe anche una tartaruga con gli occhiali cioè veramente una roba imbarazzante e poi cade sempre per terra è sempre in controtempo sugli interventi cioè non pare che abbia perso l'equilibrio cioè ha dei problemi ha dei problemi di equilibrio questo ragazzo non so cosa gli sia successo non è più neanche l'ombra dei locatelli dell'anno scorso e qui non si può neanche dire che ha giocato in un fuori ruolo perché ci sono anche un po intercambiati lui e fagioli poi voglio dire quando è entrato niretti che va bene siamo perdere niretti d'altro che mi tocca dargli 5 ha fatto buone cose ma purtroppo ha fatto tanti errori 5 fagioli per me fagioli è il centrocampista più forte che la juventus testa alta distribuisce palloni non sbaglia non sbaglia quasi nulla per me lo fa giocare troppo indietro perché quando scende locatelli dovrebbe salire lui a volte si trovano di fianco si pestano i piedi sono cose che a me non io non riesco a capire non so se è colpa dei giocatori o colpa dell'allenatore non ho più quali l'idea non sono dentro la loro testa però fagioli è un bel giocatore un gran bel giocatore per me deve essere titolare fisso 6 e mezzo allora allora io ho sempre sostenuto che mcdonald fa degli hamburger che fanno schifo no robaccia spacciata per roba buona di fatti io l'ultima volta che sono andato al mcdonald penso che andavo all'asilo perché sono veramente poi mi servivano freddi ti li buttano lì sul bancone un servizio pessimo proprio robaccia straccia americana l'america l'america di bassa lega ecco questo incarna esattamente lo spirito del mcdonald cioè roba che viene spinta viene pubblicizzata come qualcosa di clamoroso ma sotto non c'è nulla sotto non c'è nulla mi dovete dire che cosa ha fatto mcdonald anche questa sera a parte confusione a parte non vincere un contrasto a parte non esserci mai dove doveva esserci a parte non inserirsi mai in area cosa ha fatto mcdonald dei danni giocatori inutili due madonna santa ma quando ce lo leviamo dalle balle questo mai costic però caro mcdonald si lo dico proprio te c'è un giocatore che riesce incredibilmente essere peggio di te ormai non lo chiamo più pippo costic ma è ufficiale lo chiamo pippa costic comprato perché uno dei migliori crossatori d'europa quante partite è che non crossa soprattutto quante partite è che non azzecca un passaggio quante partite è che non è nel posto dove dovrebbe essere ma che giocatore è costic ma che giocatore è ma secondo voi uno di 29 anni che giocava nell'entra francoforte ok se fosse stato un giocatore di livello sarebbe stato nell'entra francoforte o magari sarebbe stato nel bayern nel borussia dortmund nel liverpool un'altra squadra no ci ha pensato tutto sport però ragazzi tutto sport per averci fatto comprare un'ennesima pippa di giocatore costice zero zero temo di temo che quando io ho detto un'altra sola non mi ero sbagliato temo di maria vabbè che dire di maria signori è il calcio di maria non hai 90 minuti nelle gambe ma finché in campo finché il fisico lo legge inventa calcio purtroppo più di una volta inventa calcio nel deserto perché al fianco ha dei giocatori che quando sono davanti alla porta anziché tirare o si incespicano o la passano ad altri io non ho ancora capito perché alla juventus quando sono davanti tutte le squadre che vengono a giocare a torino quando sono all'idoso dell'area o in area tirano in porta e spesso fanno gol come nelle ultime partite che abbiamo visto monza e atalanta e poi anche a napoli gli abbiamo presi gol noi invece davanti alla porta passiamo quello di fianco facciamo un colpo di tacco ma io non lo so io veramente non lo so io non lo so veramente quindi vabbè di maria 7 giocatore che illumina poi quando si spegne si spegne la juve classico milic milic è un giocatore che tocca un po come tre seghe magari fa due cavolate magari non lo vedi però poi arriva la palla in area e ti e ti castiga gol il gol da solo meriterebbe un otto solo che non posso dare otto per un'unica giocata veramigliosa che ha fatto perché ha fatto anche degli errori ha perso anche degli appoggi quindi gli do sei comunque milica mi piace vorrevo dargli un po di più ma gli do sei chiesa e ken sei purtroppo sono entrati quando la partita ormai si stava spegnendo l'atalanta si era sistemata era difficile penetrare chiesa ha provato a fraseggiare ma mano a mano che passava la palla della verina persa e ken lo stesso anche lui ha fatto due tre cose buone ken è in forma e ken sta giocando bene ultimamente però più di sei non gli posso dare quadrado sv perché è andato troppo tardi praticamente non è andato due palloni ha fatto un tiro un cross il tiro veleitario il cross era bello invece per quello che riguarda miaretti che ho tenuto per ultimo bruttamente io gli do quattro miaretti io ho il grande timore che si sia montato la testa è molle è molle davanti alla porta a due metri quella quello è un gol che avrebbe fatto chiunque di voi che state guardando questo video io credo che chiunque di voi anche se non avete mai giocato a calcio avreste fatto gol lui a due metri dal portiere con la porta spalancata gliel'ha tirata in bocca ai due allora una mozzarella quando viene contrastato cade per terra quando lo gli fanno il te che gli portano via il pallone se questo qui all'estimate del campione io mi chiamo giuseppe garibaldi e mia moglie si chiama anita per me sto qua un giocatore che si perderà l'ho detto in live lo ribadisco qua per me si perderà l'ennesimo giocatore che viene preso in pompa magna però poi si spegne come chi come niente niente a che vedere con fagioli niente a che vedere con illing questo giocatore secondo me che non è da juve 4 ora veniamo ad allegri per la conferenza stampa dove ha minimizzato e calmiarato l'ambiente e per l'impeto che gli ho visto stasera sul gol e come spingeva la squadra io questa sera dal lega gli darei 8 sono sincero gli darei 8 gli imputo pochissime colpe però c'è una colpa che il mio modo di vedere è gravissima caro allegri la colpa gravissima è che tu ti ostini a far giocare mccenni io fino a che tu farai giocare mccenni e mccenni sarà come quasi sempre uno dei peggiori in campo cioè inutile io non ti posso dare la sufficienza perché è un errore grave è come uno che studia sa tutto poi quando interrogato fa scena muta quindi caro max io ti avrei dato veramente probabilmente stasera senza anziché mccenni fosse stato un altro e anche fosse finita tre a tre ti avrei dato probabilmente sette questa sera ok anche perché ti voglio sostenere perché siamo tutti nelle tue mani adesso adesso anche chi non ha non ti ama come come io non ti amo come la natura lo sai non sono un anti allegriano ma non sono neanche un allegriano non ti amo vorrei qualcun altro in panchina uno che insegna calcio che dia del tami però ti avrei dato sette ripeto ma finché fai giocare mccenni io il 6 non te lo do mi devi vincere 4 a 0 tutte le partite con mccenni in campo perché ti dia un voto alto 5 buonanotte ci vediamo domani mattina alle 5 con un video di un good morning che spero vi piacerà perché è motivazionale e poi domani sera chi vuole alle 20 45 processo alla vecchia dirigenza agnelli nedved e parateci buonanotte ciao 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 Grazie a tutti